Condizioni di tempo in cambiamento in questo fine settimana sul Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di sabato la formazione di una depressione in quota sopra le Alpi provocherà condizioni di instabilità, pertanto avremo ceno in prevalenza nuvoloso sulla regione con piogge sparse, in genere moderate, localmente anche abbondanti, specie sulle pre-Alpi. Sono possibili anche dei temporali. Le piogge saranno intermittenti, intervallate probabilmente anche da schiarite, però tutto sommato la giornata risulta piuttosto nuvolosa, temperature in calo con valori massimi su pianura e costa intorno ai 19-20 gradi. Soffierà al mattino anche un po' di vento da sud sulla costa e in serata probabilmente un po' di vento dal nord-nordest. La giornata di domenica andrà decisamente meglio, con condizioni più stabili. L'arrivo di correnti in quota settentrionali darà un cielo in prevalenza variabile, forse anche poco nuvoloso sulla costa. La possibilità di pioggia rimane molto bassa e limitata a qualche locale pioggia sulla zona montana nel corso della giornata. Condizioni di ulteriore miglioramento all'inizio della prossima settimana. Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa con venti a regime di brezza e temperature in rialzo. In montagna un po' più di variabilità e qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio. Dall'Osservatorio Meteorologico Regionale buon fine settimana a tutti!